Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori estrattori di succo. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori estrattori di succo. Quindi cominciamo con l'estrattore di succo Kenwood, iniziamo questa top con l'estrattore di succo Kenwood, questa macchina molto pratica come suggerisce il nome vi permetterà di estrarre il succo da tutta la frutta e la verdura. Per essere più precisi estrae l'84% del succo da un frutto intero. Rispetto alle presse per frutta questo tipo di estrattore di succo è davvero ottimo perché permette di non fare disordine in primo luogo ma anche di godere di un succo delizioso. La macchina ha una bella potenza di 150 watt ed è molto silenziosa, la macchina ha un contenitore da un litro per il succo e 1,3 litri per la parte di polpa che si può scegliere di mangiare o no. Poi troviamo l'estrattore di succo AmsChef, il prossimo è questo estrattore di succo molto bello di AmsChef che è uno dei migliori rapporti qualità prezzo sul mercato. In primo luogo in termini di stile una delle cose che mi piace particolarmente di questo modello è la scelta dei colori disponibili. Infatti puoi scegliere tra rosso, verde, nero, grigio o bianco. Inoltre il design è molto riuscito e sobrio. Che si tratti di frutta o verdura puoi mettere tutto in questo estrattore di succo per godere di deliziosi succhi in modo naturale e senza sprechi. Inoltre questo non è solo un estrattore di succo dato che puoi anche usarlo per la carne e le verdure per tagliarle. Inoltre l'apparecchio è estremamente facile da usare e pulire. E per finire ecco l'estrattore di succo Panasonic. Infine passiamo a un modello di fascia molto alta con questo Panasonic Slow Juicer. Il design di questo modello è superbamente ben fatto in quanto è fatto in lunghezza il che lo rende molto facile da riporre in cucina senza essere ingombrante. La cosa migliore di questa macchina è che schiaccerà la frutta o la verdura lentamente in modo che tutti i nutrienti siano conservati. Così puoi goderti la tua frutta e verdura nel miglior modo possibile per essere sano. Inoltre sono disponibili diversi accessori per fare diverse preparazioni come sorbetti, dolci congelati, un filtro per ingredienti congelati e naturalmente il filtro per succhi. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nottati di qua presto per un nuovo video.